La mostra Sisigly Women and Cinema sbarca a Venezia in uno dei eventi più belli del cinema a livello internazionale. La mostra fotografica che abbiamo inaugurato al Festival di Cannes e che abbiamo proposto anche al Festival di Taormina, che coincide con la selezione di due progetti audiovisivi cofinanziati appunto dalla Sicilia Film Commission, La fornace di Daniele Cipric e del lungometraggio Spacca ossa di Vincenzo Pierrotto. Abbiamo portato i professori dell'orchestra del Teatro Bellini di Catania, diretti dal maestro Beatrice Venezia. Una grande soddisfazione per noi che conclude questo anno 2022 attraverso una partecipazione concreta e importante in tutti i principali festival nazionali e internazionali della cinematografia europea. Continuiamo a lavorare così come assessorato al turismo con la nostra Film Commission per far sì che sempre di più film importanti possano arrivare in Sicilia per scegliere la nostra bellissima terra come palcoscenico per film internazionali.